Signor Pasquale, innanzitutto auguri da parte di Canale 58 per i vostri 100 anni. Qual è il ricordo che avete della vostra gioventù? Che stiamo alzati. Avete fatto la guerra? Dove siete stati? Siamo stati prima in Francia e poi a Manzicilio. Stato in Sicilio, ci sono stati in Germania. Stato in Sicilio e lavoravo in bancone. Da qua e là, in giovane caccia. Tutte le cose di legno e cose. E' un po' di scelta. Un po' di scelta. Prendete le medicine oggi? Prendete le medicine? No, niente. Nemmeno una pillola, niente? Eh? Nemmeno una pillola, niente? Per la pressione? No, niente, niente. Acqua. E basta. Un po' che si viene. Un po' che si viene quando mangi. Perché vi mangiate? Un po' che si viene quando mi si augura. Auguri da parte di Canale 58. Grazie. 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 Applausi. 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 Nonno, 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 mamma, signora, 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 signora. Ma questo vuol dire che sono tutti a piedi, anche i figli ai 100 anni. La vita sana che ha fatto in campagna in questi anni di duro lavoro, evidentemente gli ha fatto bene. Nonostante anni difficili, gli anni della grande povertà, del mezzogiorno, di una zona interna del mezzogiorno, nonostante la guerra, è stato prigioniero in Germania. Insomma, una vita difficile, ma mi sembra coronata da una bella festa con tutti i figli, tutti i nipoti. Una bella giornata oggi. Grazie. 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 Grazie.